Dieci chilometri nella Senna. Ecco perché le nuotatrici escono con braccia e gambe piene di graffi. Le immagini delle nuotatrici italiane Ginevra Tadeucci e Giulia Gabrielleschi con le braccia ricoperte di graffi hanno lasciato tutti senza parole. Cosa è successo durante la gara nella Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024? Prima di entrare nei dettagli di questa incredibile vicenda ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video con i tuoi amici. Grazie mille per il supporto. Le nostre due campionesse italiane Ginevra Tadeucci e Giulia Gabrielleschi sono tornate dalla gara dei dieci chilometri di fondo con segni evidenti sulle braccia. Ci hanno detto di schiacciarci al muro ma ci siamo impigliate nei rovi raccontano le atlete a margine della gara rivelando cosa significa nuotare nella Senna. Abbiamo fatto questo per evitare la forte corrente che era presente nella parte centrale del fiume? Ci siamo schiacciate contro il muretto ma era pieno di rovi ed arbusti. Perché nuotare così vicino all'argine della Senna? Le atlete non avevano molta scelta. La corrente del fiume era così forte che spostarsi anche solo di 20 centimetri significava essere trascinate via mettendo a grave rischio la loro sicurezza e il risultato della gare. Secondo te ha senso far partecipare delle campionesse del genere in un fiume la Senna con queste condizioni? Non solo la forte corrente ma la Senna è piena di batteri e virus che potranno contagiare le atlete e creare un'epidemia. Per questo Tadeucci e Gabrielleschi hanno scelto di rimanere quanto più vicine possibile al bordo, sacrificando la pelle ma mantenendo il vantaggio competitivo. Questa decisione, sebbene efficace, ha penalizzato gli spettatori che hanno fatto fatica a vedere le nuotatrici a causa della loro posizione lungo il fiume. La forza della corrente ha reso la gara particolarmente difficile, soprattutto quando il sole abbagliava le atlete, rendendo quasi impossibile vedere durante il primo giro. A complicare ulteriormente la situazione c'era il timore per la qualità delle acque della Senna. Nonostante gli interventi di bonifica, il fiume è ancora considerato altamente inquinato e le nuotatrici hanno dovuto seguire una profilassi specifica prima e dopo la gara per prevenire possibili infezioni virali. La paura di contrarre malattie era palpabile, tanto che le atlete hanno deciso di non provare direttamente l'acqua della Senna, affidandosi invece ai consigli del loro allenatore. Non sono state solo le italiane a preoccuparsi. La triatleta belga Claire Michel ha descritto con disgusto i liquidi ingeriti durante la gara, sollevando ulteriori dubbi sulla sicurezza delle acque. Dopo la gara, l'atleta belga è stata ricoverata perché positiva all'escherichia coli e il belgio ha ritirato la delegazione. In conclusione, la gara nella Senna si è rivelata una sfida non solo sportiva ma anche fisica e psicologica per le nuotatrici italiane, che hanno dovuto affrontare condizioni difficili e potenzialmente pericolose per la loro salute. Vuoi saperne di più su questo e altri retroscena delle Olimpiadi? Iscriviti al canale e non perderti gli aggiornamenti! Grazie! Grazie per la visione!